Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovissimo video. Io sono Dama Colleziona e benvenuti sul mio canale. Per i ritrovati ragazzi oggi ci addentreremo nel mondo della Terra di Mezzo, in questo mondo fantasy creato da Tolkien. Tolkien che è il padre della Light Fantasy perché ha dato vita all'opera Suma, Il Signore degli Anelli. Per oggi ci addentreremo in una porzione della Terra di Mezzo, in come ben sapete la Terra di Mezzo è stato il fulcro, il cuore degli scritti di Tolkien, in particolare del Silmarillion, dell'Hobbit e del Signore degli Anelli. Quest'ultimo è proprio il capolavoro assoluto di Tolkien che è stato adattato in una famosissima trilogia cinematografica dal regista neozelandese Peter Jackson ed è una trasposizione incredibile della trilogia di Tolkien. Però il video di oggi si concentrerà prevalentemente sullo Hobbit. Lo Hobbit, come ben sapete, è un romanzo scritto da Tolkien, romanzo che è stato scritto nel 1937 e segna la prima incursione dallo scrittore nella Terra di Mezzo. Infatti Il Signore degli Anelli è stato pubblicato tra il 1954 e il 1955. Lo Hobbit, noto anche con il titolo Lo Hobbit e la ricompensa del drago, cinematograficamente parlando Lo Hobbit è stato adattato da una trilogia cinematografica da Peter Jackson dopo che Guillermo del Toro abbandonò l'idea di dirigere l'intero progetto. Infatti Lo Hobbit ha avuto una gestazione un po' complicata perché inizialmente i diritti non erano in mano alla New Line che è una controllata della Warner Bros per cui inizialmente ci furono dei problemi legali e poi aveva una gestazione complicata perché la stesura degli script per cui Guillermo del Toro che aveva in mente inizialmente di realizzare due lungometraggi su Lo Hobbit abbandonò la regia e si dedicò poi a Pacific Rim e alla forma dell'acqua. Peter Jackson che inizialmente era coinvolto nel progetto come produttore subentrò alla regia e allargò la mitologia de Lo Hobbit e de Lo Hobbit filmico non più a due film ma a tre lungometraggi perché volle inserire anche alcune parti delle appendici e alcune parti prese del Sir Marillion per cui imbastì un arco narrativo a tre lungometraggi lungometraggi che sono Un viaggio in aspettato la desolazione di Smog la battaglia dei cinque eserciti quindi Peter Jackson ha deciso di ritornare nella Terra di Mezzo e di creare una sorta di trilogia prequel al Signore degli Anelli e di congiungere le due trilogie inglobando nella storia de Lo Hobbit anche alcuni punti che non fanno parte del romanzo centrale ma che sono stati buttati nel Sir Marillion che è una sorta di opera antologica con vari spunti, con vari scritti inerenti alla Terra di Mezzo farmi un esempio nel romanzo Lo Hobbit che è un romanzo per ragazzi, non è questo hype fantasy proprio epico come lo sarà il Signore degli Anelli il libro Lo Hobbit è un romanzo per ragazzi molto tranquillo di genere fantasy è un libro corto, non ha tantissime pagine saranno 200-250 pagine in totale Lo Hobbit però se avete mai letto il romanzo sapete benissimo che all'interno della storia molte volte Gandalf esce di scena improvvisamente sparisce e poi lo rivediamo comparire ecco, diciamo queste parti oscure vengono spiegate nel Sir Marillion per cui Peter Jackson ha attinto al Sir Marillion e ha dotato la trilogia cinematografica de Lo Hobbit anche di queste parti qui per cui ha allargato la storia e ha creato il giusto aggancio con la trilogia del Signore degli Anelli la trilogia de Lo Hobbit ha avuto un enorme successo a livello commerciale ma non è stato ben preso dai fan non è stato ben preso dalla critica non ha ottenuto un successo equiparabile a quello della trilogia del Signore degli Anelli infatti è stato asperamente criticato il fatto che il regista si sia preso questa mega digressione qui e che si sia anche preso alcune licenze poetiche abbastanza vistose su tutte quella di inserire all'interno della storia un personaggio femminile che è un vero e proprio coprotagonista ed è l'unico elemento femminile all'interno della storia ovvero l'elfa Tauriel l'elfa Tauriel che è una creazione di Peter Jackson e degli sceneggiatori Fran Welsh e Philippa Bones e l'elfa Tauriel non compare nel romanzo Lo Hobbit non è un personaggio proveniente dagli scritti di Tolkien per cui la sua introduzione è stata vista in malo modo sia dai critici dal pubblico quindi diciamo che Lo Hobbit è stata un'operazione non riuscita del tutto però ha anche il pregio, come vi dicevo prima di aver inserito delle parti, delle appendici delle parti del Silmarillion e di aver incastrato e aver dato vita a un'analogia qui la terra di mezzo di Tolkien per cui complessivamente a livello diciamo di macro universo narrativo funziona comunque arriviamo al video centrale qui di oggi io sono un grandissimo appassionato di libri incentrati sul mondo del cinema in particolare a me piacciono i libri dietro alle quinte su alcuni progetti cinematografici tipo la serie The Heart of o alcuni libri che raccontano le cronache del set quindi ho comprato i cinque libri relativi alle cronache del set de Lo Hobbit quindi oggi vi mostrerò questi cinque volumazzi qui rilegati, belli grandi, belli pesanti sui tre film della trilogia de Lo Hobbit iniziamo dal primo adesso non vi farò vedere tutte le pagine perché sono tante ma vi mostrerò in generale come sono strutturati e di cosa trattano il primo libro che troviamo è incentrato sul primo capitolo su Un viaggio inaspettato con una prefazione di Dan Ennek e l'introduzione di Richard Taylor ed è un libro scritto da Daniel Falconer Falconer che è l'autore di tutti e cinque i libri delle cronache dei set de Lo Hobbit questa qui è la copertina molto bella con alcuni elementi in rilievo infatti qui la cornice presenta degli elementi in rilievo come per esempio il titolo e il cerchietto qua oltre anche qui che sono degli elementi in rilievo qui c'è l'indice con tutte le cose presenti qui in questo volume qui che si focalizza per lo più sull'arte e sul design la prefazione sono libri che hanno una bellissima rilegatura la qualità della carta è elevata tutta carta lucida bella spessa il volume contiene più di mille immagini bozzetti, fotografie e illustrazioni eseguite dagli artisti che hanno lavorato con Jackson per dare vita alla terra di mezzo ciascuno degli artisti offre il proprio commento dettagliato e appassionante e rivela la storia che si cela dietro le immagini a completamento del volume si aggiungono due illustrazioni esclusive realizzate appositamente per quest'opera una mappa speciale di grandi dimensioni stampata con un inchiosto che brilla al buio e una copia ripiegata anch'essa in grande formato del contratto originalmente sottoscritto da Bilbo Beckings eccola qui la mappa di Thorin del nano Thorin l'eree dal trono della casata di Doom qui invece troviamo un'illustrazione su Thorin scudo di quercia e questo qui è il contratto firmato da Bilbo Beckings ecco qua e questo qui è il primo libro cronaca dal set focalizzato su arte e design adesso passiamo al successivo che è cronaca dal set 2 personaggi e creature con un'introduzione da parte di Andy Serkis l'interprete di Gollum che nella trilogia della Hobbit è stato regista della seconda unità anche in questo caso troviamo alcuni elementi in rilievo come il titolo e come alcune parti qui della copertina che sono in rilievo questo è l'indice e qui troviamo la prefazione di Andy Serkis questo libro esplora la stupefacente varietà di eroi e di cattivi di animali e di mostri di esseri umani e inumani che popolano la terra di mezzo nel primo episodio della saga cinematografica di Peter Jackson ispirata allo Hobbit di Tolkien riccamente illustrato con fotografie dietro le quinte animazioni digitali e fotogrammi del film questo enciclopedico libro esamina specie dopo specie protagonista dopo protagonista l'infinita serie di personaggi e di creature che cinematografati dal vero in digitale affollano il film spiegando come ciascuno di essi sia stato realizzato poi come bonus all'interno di questo libro c'è anche la tavola dei personaggi in scala che mette a confronto le principali creature del film dal riccio che è il beniamino di Radagast ai colossali giganti di pietra molto interessante la tavola dei personaggi in scala e il secondo libro Cronaca del set 2 personaggi e creature adesso passiamo a Cronaca del set 3 l'hobbit e la desolazione di Smoog con l'introduzione dell'artista Alan Lee anche in questo caso troviamo il titolo in rilievo alcune componenti in rilievo ecco qui l'indice la prefazione e l'introduzione di Alan Lee infatti questo libro qui esplora ed esalta la visione creativa del secondo film del regista Peter Jackson questo volume segue Bilbo Gandalf e la compagnia di Thorin nel loro viaggio verso est attraverso regioni della terra d'aria di mezzo finora mai viste con l'obiettivo di strappare il regno perduto di Ereborn dalle grinfie del perfido drago Smoog esaminando i progetti e lo sviluppo di ambientazioni culture creature e manufatti incontrati dai personaggi il libro conta più di mille straordinarie immagini di concept art foto aggiuntive e commenti dettagliati del cast e della troupe del film poi qui all'interno una copia ripiegata con il ritratto del governatore della città Lago governatore che nella serie cinematografica è interpretato da Stephen Fry e questo qui è il terzo volume dello Hobbit cronache dal set adesso passiamo al quarto libro cronache dal set che si focalizza su armi e costumi anche in questo caso qui troviamo alcuni elementi rilievi come il titolo e altri elementi qui della dello sfondo non ve l'ho detto prima ma se vince che cada volo mozzo qui ha un colore di sfondo ha un artwork con un colore dominante ben ben dosato in questo caso qui in colore verdogno non su un verde ma cada volume ha uno sfondo con una dominante ben precisa infatti ravvicinati tutti i libri fanno la loro bella figura anche dal punto di vista cromatico ecco qui l'indice questo volume qui getta uno sguardo dietro le quinte per descrivere l'incredibile lavoro di creazione di migliaia di costumi armi armature accessori allestimenti per l'adattamento di Peter Jackson dello scritto Lo Hobbit di Tolkien il volume contiene moltissime immagini del set splendide fotografie e fotogrammi de Lo Hobbit un viaggio inaspettato e Lo Hobbit la desolazione di Smoke e qui alla fine troviamo il mastodontico set che è stato ricostruito in Nuova Zelanda guardate e questo qui è il quarto volume di cronache dal set adesso arriviamo all'ultimo quello incentrato sulla battaglia dei cinque eserciti il capitolo conclusivo de Lo Hobbit anche in questo caso il titolo e alcuni elementi dello sfondo sono in rilievo questo qui è l'indice introduzione e questo libro qui si focalizza sull'arte e il design della battaglia dei cinque eserciti che ha avuto più di 1800 elaborati artistici per l'epica conclusione de Lo Hobbit del regista Peter Jackson viene spiegato come è stata architettata la battaglia per la montagna solitaria come sono stati ideati i suoi eserciti e plasmati i suoi paesaggi attraverso il resoconto e i commenti dei membri del team creativi dalla città del lago a Dol Kuldur fino a Dale passando per Colleo Corvo e qui possiamo trovare l'occhio di Sauron perché il film finisce con il ritorno di Sauron nella terra di Mordor o meglio lo spirito di Sauron quindi è la giusta congiunzione con Il Signore degli Anelli infatti alla fine de Lo Hobbit c'è anche una citazione a Aragorn e questo qui è l'ultimo libro della serie cronaca del set quindi ragazzi vi ho fatto vedere molto velocemente questi cinque volumozzi qui targati buon piani tutte edizioni rilegate curatissime ben fatte che spiegano di tutto di più sulla lavorazione della trilogia de Lo Hobbit di Peter Jackson capisco che non è la trilogia cardine non è la trilogia più riuscita sulla terra di mezzo ma libri sono dei volumi che secondo me sono essenziali se amate la terra di mezzo se amate l'esalogia cinematografica di Peter Jackson sono delle edizioni davvero interessantissime se come a me amate i libri dietro le quinte sulla lavorazione dei film questi volumi qui vi soddisferanno appieno il prezzo di listino è 30 euro cada volume però si trovano su Reimanders per cui se guardate sul libraccio su IBS ve li portate a casa anche con con poco per cui se vi interessano vi consiglio caldamente l'acquisto sono molto belle come edizioni e sono ricche davvero io vi ringrazio per aver viaggiato con me nella terra immaginaria fantasy di Tolkien la terra di mezzo e vi do appuntamento fra qualche giorno con un nuovissimo eccitante video a presto